C'era una volta una bambina che si chiamava Lucilla. Era una bimba molto solare e molto educata. Aveva però una particolarità, una grande macchia rossa sul faccino e tutti la prendevano in giro. Gli altri bambini non volevano giocare con lei e le dicevano che era strana. Lucilla era molto triste e i suoi genitori non sapevano come aiutarla. Lei un giorno piangendo chiese alla sua mamma. Mamma ma perché tutti mi prendono in giro? Io sono sempre brava con loro. La mamma rispose vedi piccola mia quando le persone non conoscono una cosa. Purtroppo è più facile allontanare che capire ma tu continua ad essere quella che sei e vedrai che un giorno questa diversità non la vedranno più. La mamma di Lucilla aveva ragione perché un giorno a scuola si avvicinò alla piccola una nuova rimata. Matilde. Ciao io sono nuova. Vuoi giocare con me? Lucilla la guardò con un sorriso da orecchio a orecchio e le disse di sì e iniziarono a giocare finché ad un certo punto Matilde le disse come mai gli altri bimbi ti stanno lontano? E Lucilla con la faccia triste rispose perché vedi io ho questa macchia rossa sul mio faccino e loro non capiscono che è solo una voglia e mi stanno lontano. Matilde le sorrise disse a me piace sembra una grande fragola succosa e a me le fragole piacciono tanto. Le due bimbe si misero a ridere e continuarono a giocare insieme a poco a poco anche gli altri videro che Lucilla era una bambina normale. Si avvicinarono e tutti capirono che non c'era niente di sbagliato in lei e finalmente Lucilla era felice insieme ai suoi amici. Ricordiamo bambini che sia una macchia sul faccino al colore della pelle o qualsiasi cosa che ci può sembrare diversa o strana non importa. Ricordiamoci sempre che bisogna imparare a conoscere vogliamoci sempre bene. Buonanotte!